Beati i poveri in spirito perché di essi è il regno dei cieli Beati gli afflitti perché saranno consolati Beati i miti perché erediteranno il mondo Beati coloro che hanno fame e sete di giustizia perché saranno saziati Beati i misericordiosi perché troveranno misericordia Beati sono i puri di cuore Perché contempleranno Dio Beato chi porta la pace Perché sarà chiamato figlio del Signore Beato colui che è perseguitato perché cerca la giustizia Beati sono i puri di cuore